eccoci collegati buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo webinar organizzato in collaborazione con fontopel do il mio benvenuto immediatamente a francesca fossatelli ciao francesca ciao pierpaolo buongiorno a tutti buongiorno e ben ritrovata diciamo che questi sono giorni in cui non ci si può vedere fisicamente ma ci si vede più del solito perché siamo stati in compagnia durante la giornata di ieri in occasione della you finance questa due giorni dedicata al mondo degli investimenti una bellissima iniziativa organizzata da trader link alla quale abbiamo partecipato entrambi e insomma alla quale abbiamo anche dedicato una tavola rotonda dove eravamo assieme appunto ieri pomeriggio poi so che hai parlato comunque diffusamente di certificati anche con riccardo dei signori ad esempio con altri ospiti da gabriele bellelli toni mio amico toni insomma devo dire che è stata una bella manifestazione tu che impressione ti sei fatta ormai in chiusura della due giorni sì assolutamente un'ottima manifestazione abbiamo ricevuto moltissime domande sia durante il webinar ma anche successivamente al webinar quindi comunque i temi trattati sono stati interessanti l'abbiamo visti sia dal punto di vista se vogliamo i certificati sia dal punto di vista investment che trading oggi ho partecipato tra l'altro anche a una conferenza con fanton e bellel e scusate puviani quindi toni scioli puviani sugli errori che commettono gli investitori quindi come evitare diciamo i classici errori da da trader quindi abbiamo visto proprio diversi temi secondo me un anche delle conferenze molto 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 interessanti sì devo dire che è stata una bella iniziativa che è fatta anche in questo caso un po come sto dicendo da un po di tempo di necessità virtù nel senso che non potendosi incontrare ci si è tutti un po arrangiati ma devo dire la tecnologia ci ha fatto strutturare anche dei buoni momenti devo dire che sto ricevendo anche qualche feedback ho appena terminato quindi ora abbiamo iniziato con tema ho appena terminato proprio in diretta sugli finance un altro webinar dove abbiamo parlato chiaramente come sempre dei certificati quindi ringrazio carlo e anche chi stava già seguendo dall'altra parte insomma allora francesca oggi vedo che ci sono già un po di domande quindi naturalmente fra poco andrò a girartele io e mi eclisso come webcam perché a un certo punto quando iniziano ad aumentare le persone collegate poi c'è un problema di audio e ci ho messo un po a capirlo però finalmente ho capito che forse la telecamera non è poi così necessaria allora prima di iniziare il consueto passaggio molto rapido su quello che sta avvenendo sui mercati oggi vediamo un segno rosso per quello che riguarda il mercato azionario europeo in particolare sull'italia stiamo andando a chiudere con un ribasso dell'uno e venticinque per cento un po meno accentuato sul sullo euro stocks 50 il fuzzicento addirittura in più o meno in territorio più o meno neutrale in america invece si continua assolutamente con questa fase di ottimismo sfrenato insomma dettato sicuramente anche dal dal fatto che la fed ha messo sul piatto qualche trilione di dollari quindi posso anche capire che in america si guardi il tutto in maniera un po' differente ma stanno iniziando anche ma essere molto più frequenti oltre che i dati macroeconomici decisamente negativi ma anche dei veri e propri fallimenti non ultimo ricordiamo in questi giorni il titolo hertz che purtroppo sembra che non riesca per il momento a scampare al chapter 11 e alla richiesta di adesione al capitolo 11 e quindi c'è ancora qualche giorno ma insomma sembra che il destino sia per ora quello detto questo insomma in america si continua ad essere come vedete talmente ottimisti da arrivare sul nasdaq a circa o 750 punti dai massimi storici quindi come se poco o nulla fosse accaduto buona parte dei rialzi chiaramente sono dettati dal settore tecnologico francesca oggi ci mostrerai delle nuove idee proprio legate a questo settore perché comunque effettivamente se qualche settore può trarne beneficio dall'andamento dei mercati in questo ultimo periodo evidentemente c'è proprio quello della della tecnologia e quindi si può anche comprendere come ad esempio la tecnologia stia spingendo anche oggi lo vediamo l'uno e tredici per cento di contribuzione all'andamento dell'indice a sempre 500 e invece il settore finanziario è quello che probabilmente ne beneficerà un po' di meno e lo vediamo infatti si conferma questa cosa anche sul sul mercato americano oltre che da noi dove oggi sono stati comunicati dati da unicredit dati non positivi negli ultimi sei giorni invece rally del petrolio che solo oggi sta tirando il fiato abbiamo parlato molto di petrolio continueremo a farlo anche oggi perché abbiamo un certificato che è stato come ben sapete da noi portato un po' all'attenzione del del mercato perché è una strategia che fontobel ha realizzato diversi mesi fa in tempi non sospetti quando si vuol dire insomma ti porti avanti e quindi vi siete effettivamente portati avanti con quello che poi è accaduto ovvero cercare di risolvere una problematica legata a un eccesso di contango che si è verificato sulle scadenze ma parleremo dettagliatamente anche di questo anche perché ci sono già delle domande che sono arrivate anche sul fronte del petrolio oggi vedete dopo cinque giorni costituitivi rialzo i contratti future sul petrolio wti stanno rifiatando e quindi stanno prendendo un po' di una pausa e questo chiaramente sta influendo anche sul sugli etc piuttosto che sui titoli del settore e adesso vengo da te francesca così io mi faccio già subito un giro di lettura di domande prima di arrivare da te però ecco c'è marco che mi chiede ma quindi ers fallisce ma allora naturalmente non abbiamo la sfera di cristallo per dire se fallisce o meno ma credo che le notizie siano purtroppo ormai queste lunedì era in era in corso c'era l'ultimatum per trovare un accordo con i creditori ers ha saltato il pagamento di una restituzione di un debito pertanto al momento è insolvente e anche da un punto di vista del controllo del rischio vediamo commercio in questo momento venga giudicata ormai eh una società purtroppo in bancarotta lo si capisce innanzitutto dalla probabilità di insolvenza ad un anno che è del sette sessanta sul modello di rischio di bloomberg che è un livello comunque altissimo ma soprattutto il cds di mercato quindi non tanto il modello ma il cds di mercato a cinque anni che è salito a ventimila cinquecento ventisette basis point che vuol dire che per assicurarsi dal fallimento di ers si paga ormai tantissimo e questo proprio perché questo fallimento è eh diciamo ormai abbastanza eh purtroppo imminente il l'ultimatum di lunedì è saltato o nel senso che non è stato raggiunto nessun accordo c'è tempo ora fino al ventidue maggio per trovare una soluzione però consideriamo che i vertici di ers hanno già avviato le procedure per l'adesione alla certe 11 altro titolo di cui ci chiedete e ci avete chiesto anche se non sono titoli su cui in questo momento ci sono molte emissioni ad esempio Francesca mi sembra su ers non abbiate proprio nulla no esatto su wirecard invece sì c'è un prodotto ecco su wirecard altro titolo molto come si vuol dire so chiacchierato in questo periodo anche se insomma non in termini negativi ma anche qui c'è stata una notizia riguardante i bilanci insomma non troppo rassicurante e quindi wirecard è stata abbastanza penalizzata dal mercato vediamo in linea verde il titolo azionario 87 e 22 nella giornata di ieri oggi 81 e 87 perde ancora e siamo quindi a ridosso dei minimi che sono anzi al di sotto dei minimi che erano stati toccati il 18 marzo da un punto di vista dei bilanci quindi qui è la stradazione è differente mentre su ers non sono stati ripagati dei debiti e quindi c'è proprio una bancarotta in corso qui il problema è invece legato ad un falso quindi ad un bilancio che non corrisponderebbe al vero insomma la situazione è differente pertanto non ci aiutano i dati che vediamo qui a proposito né di probabilità di default né di cds di mercato cioè l'azienda in se sterebbe bene deve solamente fornire i chiarimenti richiesti a proposito di questo bilancio quindi al momento naturalmente che dire questa è un'opinione del tutto personale se oggi devo iniziare ad investire probabilmente aspetto un attimo e cerco molto altro se già ci sono dentro seguo l'evoluzione delle notizie per ora non ci sono notizie più fresche di quelle che probabilmente già conoscete però ecco il mercato nel frattempo anche in questo caso si anticipa un po e inizia apprezzare naturalmente vendendo questi questi titoli quindi per ora situazioni ben differenti direi che se riuscisse wirecard a fornire i chiarimenti a tranquillizzare un po il mercato alla fine il tutto rientrerebbe nell'ambito della normalità ed è una società assolutamente solida come abbiamo appunto anche visto dai dati di bilancio e dei numeri bisogna vedere se sono dati purtroppo corrispondenti al vero ma questa ripeto non stanno e naturalmente cioè non riesco ad avere notizie diverse quindi nicola ti aiuterei volentieri ma non sono purtroppo oggi non ho nulla di più di quello che magari già sai bene allora a questo punto vedo che c'è alessandro che già segnala qualcosa anche mario insomma ci sono tanti tante domande ma io a questo punto proprio perché così riesco più facilmente a leggere le domande poi a girartele come sempre ti assegno il controllo del monitor francesca ecco di qua così che tu possa direttamente mostrare quello che sono le novità abbiamo appunto mi hai anticipato eccoci qua e ho le occasioni sul mercato secondario naturalmente io ti seguirò ti leggerò le domande ti farò eventuali insomma ti interromperò come sempre ormai siamo abbastanza collaudati a te francesca per paolo io inizierei con un tema che abbiamo trattato anche durante la tavola rotonda ma giusto per riaccennare il tema del ritorno della volatilità perché potrebbe essere un tema centrale anche per le prossime settimane nel caso in cui ci fosse un picco di volatilità eh come si è verificato poi eh diciamo nel a marzo durante il sell off di tutti i mercati eh quando c'è eh un aumento di volatilità significa anche che c'è un maggiore rischio per l'investitore ma questo determina anche maggiore rendimento maggiore rischio perché perché su tutti quei prodotti con barriera abbiamo maggiore probabilità di violare la barriera eh a scadenza eh o comunque una barriera continua nel caso ad esempio dei bonus cap e maggiore probabilità di non pagare il premio allo stesso tempo abbiamo maggiore rendimento sui certificati già emessi una maggiore volatilità significa una riduzione di prezzo quindi può essere un'occasione di acquisto prezzi più eh bassi degli stessi certificati che quotavano prezzi più alti eh solo per eh appunto un aumento della volatilità sui certificati di nuova emissione significa anche un maggior rendimento quindi un maggior premio periodico e questo si è visto anche dai dati di mercato ossia i ehm gli investitori italiani che eh investono sul SEDEX e quindi sui certificati eh quotati in Italia eh a marzo quindi nella nella barra gialla piuttosto che andare su certificati a capitale protetto su bonus certificates hanno proprio incrementato le loro posizioni proprio sui cash collect reputandoli appunto più interessanti proprio perché questo aumento di volatilità aveva ovviamente sui bonus certificate si sono avuti magari anche eh eventi barriera quindi si erano ridotte anche le possibilità di investimento in questi strumenti ma sui cash collect certificate ovviamente una un aumento di volatilità significa una riduzione del prezzo quindi una possibilità eh di acquisto a un prezzo eh interessante ricorderai proprio velocemente che cos'è un cash collect per chi eh non lo conosce o si è connesso magari eh in questo momento noi eh categorizziamo i cash collect per caratteristiche quindi per noi il cash collect è un prodotto che va a pagare un premio periodico condizionato altrimenti se il premio periodico è incondizionato lo chiamiamo cedola fissa il cash collect è della tipologia express perché ha la possibilità di rimborso anticipato quindi ha la possibilità del cosiddetto autocall cioè alle diverse date di valutazione se il sottostante o tutti i sottostanti sono superiori o pari alla barriera autocall scade anticipatamente e ci paga il premio e ha ovviamente una protezione condizionata del capitale in questo caso a scadenza quindi tutti i prodotti finora eh che attualmente sono quotati sul mercato e che sono acquistabili sul mercato hanno una barriera solo eh monitorata a scadenza quindi se a scadenza il sottostante non è sceso di più che la barriera a scadenza allora in quel caso eh diciamo riceviamo indietro i cento euro di valore nominale o i mille euro di valore nominale ehm io ho mi sono focalizzata su delle emissioni prima del sell off dei mercati che possono rappresentare ancora eh un un'occasione di acquisto in particolare eh abbiamo visto anche eh diciamo durante la eh nostra conferenza questo prodotto che è il prodotto in assoluto più scambiato a marzo è il prodotto eh su Eni e Intesa San Paolo è un memory cash collect express che ci va a pagare un premio di uno virgola zero uno euro trimestrali quindi un quattro virgola zero quattro annuale se Intesa San Paolo è superiore a uno virgola zero sette zero cinque euro e Eni è superiore a cinque virgola cinque nove cinque euro questa non solo è la barriera premio ma è anche la barriera a scadenza cioè il quattro marzo del duemilaventidue altrimenti se Eni dovesse risalire sopra gli undici virgola diciannove euro e intesa sopra i due virgola cento quarantuno euro in quel caso avremmo anche l'estinzione eh diciamo il rimborso anticipato del prodotto quindi il prodotto scadrebbe anticipatamente e ci pagherebbe il premio quindi questo è un prodotto pensato per tutti coloro che acquistandolo e adesso si acquista sotto la pari eh acquistandolo vogliono eh ricevere dei premi periodici ehm e eh diciamo non sono così affini con l'autocall perché l'autocall che può essere un eh diciamo una caratteristica eh che piace ad alcuni investitori può non piacere ad altri investitori c'è sempre diciamo una divisione quando quando parliamo con i nostri investitori tra chi ama prodotti che eh danno una possibilità di scadenza anticipata e quindi ama diciamo magari scegliere dei nuovi prodotti e chi invece vuole un'entrata periodica quindi in questo caso è un prodotto più adatto per la seconda tipologia dell'investitore colui che cerca l'entrata periodica. Ecco prima di andare avanti allora ci chiedono innanzitutto il prezzo attuale del certificato e siamo in area ottanta quindi l'ultima chiusura oggi settantanove ottantacinque ottanta virgola sessanta quindi in termini di potenziale rendimento per chi appunto oggi fosse interessato il rimborso massimo a scadenza potrà essere di centootto e zero otto su ottanta virgola sei è un rendimento del trentaquattro per cento da ottenere se terranno entrambe le barriere che sono in questo caso come vediamo soprattutto su Eni molto molto bassa su intesa in realtà lo è ma è che è intesa in questo periodo che sta soffrendo più degli altri ma anche i dati di bilancio annunciati ieri sono stati eccezionali quindi comunque in prospettiva da qui al 4 marzo 2022 potrebbe essere una buona idea. Allora a proposito di questo certificato Giovanni dice non pensate che abbia un rendimento molto basso rispetto al rischio implicito di un certificato ovvero il 4 e 04 annuo Francesca secondo me questa è una bella domanda perché cioè fa riferimento a due cose il 4 e 04 annuo che è chiaramente poco se lo pensiamo oggi ma in realtà questa è un'emissione che è arrivata un po' prima dell'esplosione di volatilità ecco magari possiamo dare un'informazione sotto questo punto di vista. Sì il rendimento appunto se il certificato fosse a 100 euro il rendimento ovviamente sarebbe basso rispetto anche alla distanza dalla barriera ovviamente la distanza dalla barriera quindi questo 50 per cento è alla data di emissione quindi questa distanza che noi vediamo barriera dipende dalla foto che noi facciamo di Eni intesa San Paolo la data di emissione ossia Eni quando abbiamo lanciato il certificato valeva 11,19 euro intesa valeva 2,141 euro ovviamente se i due sottostanti o anche uno dei sottostanti essendo un basket della tipologia workshop scendono o se la volatilità aumenta su uno dei due sottostanti o su entrambi in quel caso il prezzo diminuisce. Il prezzo diminuisce significa che ho un maggiore rendimento sul capitale quindi ovviamente pago una cosa 80 euro oggi ma a scadenza il 4 marzo 2022 se i sottostanti sono superiori o pari alle barriere in quel caso io ricevo indietro i 100 euro di valore nominale. Inoltre il premio quindi questo 1,01 euro è percentualmente più alto rispetto alla fase di emissione quindi quello che rappresenta un 1% in fase di emissione sulla base del prezzo basso che ha il certificato rappresenta una percentuale più alta quindi oggi il rendimento che otteniamo su questo certificato è molto più alto proprio perché rispetto all'emissione abbiamo due sottostanti più vicini alle barriere quindi più vicini alla barriera scadenza e ovviamente abbiamo avuto questo aumento di volatilità. Un po' come dire ecco per concludere poi ti devo fare già subito un po' di domande quindi allora per rispondere alla che però mi piaceva come domanda quindi l'ho voluta leggere per questo motivo allora è stato emesso il 6 marzo quindi con i prezzi che sono stati rilevati anche tra qualche giorno prima e quindi in quel momento due titoli anziché 4 o 5 di cui 1 Eni che magari ancora non aveva tutta questa volatilità che ha avuto da lì a poco durata di soli due anni barriera al 50% non poteva rendere più del 4% se lo stesso certificato lo emetti oggi e lo hai fatto perché comunque le ultime emissioni su Eni hanno avuto premi dell'otto 9% 10% annuo ecco quindi se lo avessero emesso oggi avrebbe avuto un rendimento più alto e questo lo si deduce anche dal fatto che oggi il certificato quota 80 quindi il rendimento anziché essere dato dai coupon viene dato da coupon più conto capitale allora mi chiedono che cosa vuol dire struttura un ulteriore dettaglio cioè se noi avessimo emesso lo stesso identico certificato con quindi lo stesse le stesse identiche barriere oggi ovviamente il premio sarebbe più alto ma comunque il prezzo del certificato sarebbe 100 un po questo il discorso quindi in realtà è sempre tra virgolette uno spostare da una è sempre come dire la coperta corta quindi se tiriamo da un lato rimaniamo scoperti dall'altro è è proprio il discorso ma infatti guarda quello che hai appena detto mi fa vedere in mente una cosa che è una delle domande anche più ricorrenti è meglio comprare i certificati già emessi a 70 80 o a 60 o eventualmente un certificato di nuova emissione che compriamo a 100 o anche sopra 100 allora in termini di rendimento non dovrebbero cambiare nel senso che il rendimento alla fine è espresso dalle opzioni quindi il rendimento potenziale potrebbe essere alla fine anche lo stesso come stai dicendo più o meno lo stesso il quello che cambia chiaramente che se io prendo un certificato a 60 o la maggior parte del rendimento dato dalla quotazione sotto la pari e probabilmente non prendo cedole perché ogni trigger per le cedole molto alti e sicuramente non ricevo il rimborso anticipato perché il sottostante deve risalire dell'ottanta per cento se compro un certificato appena emesso ho maggiori probabilità che fra sei mesi già mi va in autocall quindi non che sia per forza meglio uno dell'altro dipende da che cosa uno va a cercare poi fin fondamentalmente francesca ci sei sì 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 ok cosa vuol dire struttura smart qui in questa slide ci chiedono allora diciamo che qui c'è una struttura smart nell'autocall ossia nella data 1 e 2 abbiamo un autocall più alta il che significa che nel primo anno è più difficile avere l'autocall quindi se vediamo diciamo la tabella sulla destra con la barriera autocall nelle nelle prime due date di osservazione quindi i primi sei mesi e al primo anno abbiamo una barriera su eni di 12,309 intesa 2,3551 questo era pensato diciamo proprio per far sì che fosse difficile l'autocall al primo in realtà anno e mezzo perché come vediamo è una step up fino alla data 3 quindi cresce la barriera fino alla data 3 quindi è più difficile l'autocall per il primo anno e mezzo dalla data 4 alla data 7 invece abbiamo una barriera più bassa quindi più bassa anche dello strike eni 9,512 intesa 1,8199 quindi comunque è molto difficile attualmente avere un autocall proprio perché diciamo la prossima data di valutazione è il 4 giugno 2020 quindi per le prime tre date sarà molto difficile a meno che appunto entrambe le entrambi le stini dovessero salire oltre il trigger autocall dalla data 4 però alla data 7 quindi dopo un anno e mezzo e quindi al secondo anno in particolare sarà possibile invece è molto più facile ottenere l'autocall rispetto ai valori di strike quindi questo è un prodotto che comunque al momento ha un autocall più difficile da raggiungere ma nel caso in cui ci dovesse essere una ripresa anche di eni e di intesa in quel caso sarà difficile diciamo per le prime tre date di valutazione avere l'autocall mentre sarà un po' più facile averla dalla data dalla quarta data di valutazione quindi dal secondo anno in poi ok chiudiamo su questo con l'ultima domanda di Michelino il certificato di cui si parla da acquistato a 63 conviene acquistarne degli altri 80 82 ma allora il certificato di per sé Michele è assolutamente come abbiamo detto interessante quindi oggi ancora un ottimo rendimento quindi potresti chiaramente incrementarlo avendo tra l'altro un ottimo prezzo di acquisto sul primo ingresso dopodiché adesso Francesca ci farà vedere altre idee ma sicuramente altre arriveranno anche dalle persone che stanno ascoltando come te e quindi magari potresti provare a diversificare cioè il certificato migliore di tutti in assoluto diciamo che non esiste esistono delle ottime opportunità quindi a volte anche un po' diversificare quindi non so Francesca a tal proposito ti chiedo vediamo magari un altro poi dopodiché ti faccio un po' di domande generiche però volevo quantomeno vedere due o tre idee prima sì possiamo possiamo vedere anche diciamo un'altra tipologia se vogliamo di prodotto che è la tipologia Atena che è nota diciamo la maggior parte degli investitori ma con Atena si intende quel certificato che se paga premio scade anticipatamente e ad ogni data di valutazione il premio è più alto ossia la prima data di valutazione se mi scade mi paga un premio se scade la seconda data di valutazione mi paga due premi se scade la terza data di valutazione mi paga tre premi e così via in questo caso abbiamo un prodotto Atena con effetto airbag quindi nel peggiore dei casi se uno dei sottostanti a scadenza fosse inferiore alla barriera a scadenza in quel caso andremo a vedere la performance del peggiore non rispetto allo strike non rispetto quindi alla data di valutazione iniziale ma rispetto alla barriera quindi la perdita sarebbe limitata rispetto a un certificato che non ha effetto airbag questo infatti è uno dei prodotti che tra virgolette ha subito meno possiamo definirlo più resiliente proprio nel momento in cui è andata ad aumentare la volatilità quindi quando c'è stato il picco di volatilità il certificate ha ovviamente risentito del picco di volatilità ma un po' meno degli altri proprio perché quelli con effetto airbag sono un po' più resilienti mi prendo un attimo il monitor mentre parli così vi faccio vedere una cosa quindi questo è un prodotto diciamo che è legato al basket gaming quindi c'è Activision, Electronic Arts e Ubisoft ha una barriera al 65% che è sia barriera capitale che strike quindi rappresenta anche l'effetto airbag e ha una barriera invece sempre premio del 65% scusate premio del 100% e di rimborso anticipato del 100% come per tutti gli Atenas Certificate ecco infatti allora ho voluto mostrare il chat lab perché si evidenzia un po' meglio con i numeri alla mano attuali quello che stavi dicendo ovvero che in questo momento noi abbiamo i tre titoli innanzitutto sono tutti in rialzo con Electronic Arts che ieri guadagnava di più ma poi ieri sera ha rilasciato una trimestrale non particolarmente positiva quindi ha perso un po' altrimenti comunque era anche più su di quello che è in questo momento però sono tutti e tre positivi oggi quindi questo certificato se rilevasse il valore dei tre titoli rimborserebbe quindi se oggi fosse il 27 luglio in chiusura liquiderebbe 100 più il 9,54 e attualmente si compra in area 101, 102 insomma questo è più o meno il suo prezzo però quello che volevo far vedere era l'effetto airbag quello che si diceva ovvero innanzitutto siamo sopra lo strike otteniamo la somma dei premi fino alla barriera siamo protetti a 100 e quindi vedete che anche a fronte di un meno 30 si perde l'1,96 ma se anche si dovesse trovare con un titolo a meno 50% la perdita sarebbe molto ridotta e sarebbe pari al 21% quindi certificato che ha innanzitutto un'idea diversa di investimento quindi come dicevi tu il gaming poi questa struttura con le opzioni rimborso anticipato che permettono di incassare questi ricchi coupon a memoria perché si parla del 9,54 a semestre e l'opzione airbag che più di qualcuno ci sta dicendo vi ringrazio di avermela fatta conoscere perché comunque mi ha aiutato in questi fasi proprio perché l'opzione airbag è quella che è destinata poi a tenere in maniera migliore i prezzi soprattutto in ottica della scadenza poi la fortissima volatilità ha buttato giù anche gli airbag ma questa è più un'opportunità oggi che un problema questo assolutamente a mio avviso e prima di rilasciarti il monitor ci sono due domande che ci hanno fatto la prima riguarda il rating di Fontobel lo ripetiamo tutti i webinar ma assolutamente sempre ben venga allora come rating siamo una A3 quindi diciamo siamo al massimo rating tra gli emittenti che quotano sul Sedex quindi anche il minor rischio emittente al momento e lo potete ritrovare qui perché ci chiedevano dove possiamo vedere i rating sul CEDLAB abbiamo tutti i rating diciamo anche con le revisioni e gli outlook aggiornati quindi qui lo potete vedere poi un'altra cosa che ci hanno chiesto invece dove poter trovare la volatilità dei titoli sottostanti allo stesso modo sempre all'interno del CEDLAB se cliccate sul titolo Electronic Arts oltre ai valori di oggi massimo e minimo trovate anche la volatilità implicita del singolo titolo quindi in questo caso tra l'altro anche mi meraviglia abbastanza bassa quindi a volte si pensa a questi titoli come caratterizzati da alta volatilità ma praticamente c'è la più alta Eni oggi che questi titoli quindi erano due domande a cui volevo rispondere e così le abbiamo viste tutte e due assieme ti ripasso il monitor poi dimmi quando vuoi fare un giro di domande un po' generali magari vediamo un terzo prima qualche certificato in più sì diciamo mi sono concentrava proprio su questa tipologia se vogliamo di titoli quindi i titoli tecnologici perché come dicevi tu giustamente Pierpaolo noi spesso parliamo anche con i trader professionisti che ci segnalavano appunto questo come uno dei settori che probabilmente avrà lo sviluppo maggiore ovviamente ha avuto uno sviluppo già positivo in fase Covid ma ovviamente i titoli tecnologici sono quelli che stanno resistendo di più anche perché ovviamente faccio un esempio abbiamo lanciato anche degli strumenti che vi posso anche far vedere subito tra le nuove missioni su Microsoft, Cisco, Alphabet quindi su tutti i servizi che vengono acquistati non solo da privati ma anche e soprattutto da aziende per permettere l'home office quindi possono essere dei temi anche interessanti in ottica di investimento di medio-lungo periodo qui abbiamo dei certificati con barriera premio e barriera scadenza ad esempio il memory cache collect su Microsoft, Cisco e Alphabet al 60% barriera di rimborso anticipato e strike al 100% quindi non presentano l'effetto airbag abbiamo poi anche degli Atena che sono stati lanciati diciamo sul tema se vogliamo supermarket sia online come Amazon e Alibaba e sia fisici come Walmart e Carrefour in questo caso la barriera però è al 50% quindi può essere anche interessante uno di questi strumenti hanno date di scadenza piuttosto vicine quindi 2022 premi che vanno dal 4,74% semestrale al 5,73% al 5,36% nell'ultimo caso quindi quello di Walmart e Carrefour quindi anche questo può essere un altro tema di investimento interessante su cui puntare hanno la scusami Francesca ogni volta che finisci un Aisin devi fare un fiato una pausa perché ti devo interrompere allora hanno la clausola quanto questi certificati? sì tutti i certificati che vengono emessi da noi sul CEDEX sono tutti quanto quindi non ci dobbiamo preoccupare diciamo del tasso di cambio ma andiamo a vedere semplicemente i livelli dei diversi titoli alle diverse date di valutazione e a scadenza poi io qui ti faccio una domanda della quale io penso che forse proprio una ricerca non si può fare però ci chiedono Joe ci chiede se si può fare una simulazione di ricerca sul sito se voglio ricercare tutti gli airbag allora al momento no al momento no ma in realtà anticipa un tema che avrei voluto trattare proprio perché moltissimi consulenti finanziari ci hanno chiesto ci chiedono spesso una lista di tutti i prodotti con tutte le diverse caratteristiche quindi una tabellina come questa che vedete diciamo nello schermo e tra pochi giorni verrà pubblicato proprio nel sito nella sezione prodotti un Excel quindi un file Excel molto semplice dove ci sono tutte le caratteristiche dei prodotti quindi la barriera di rimborso anticipato lo strike la barriera premio la barriera scadenza la frequenza del premio il premio la data di scadenza quindi tutte le caratteristiche principali in modo tale che potete diciamo che tutti gli investitori possono orientarsi nella scelta del certificato di investimento in modo molto semplice e molto facile in quel caso per tutti gli strumenti con effetto airbag non solo ci sarà scritto nella tipologia dello strumento ma si dedurrà anche poi dallo strike perché lo strike sarà inferiore al 100% quindi sarà semplicissimo attraverso un filtro filtrare questi strumenti e questo può essere uno strumento utile che metteremo appunto a disposizione di tutti gli investitori per selezionare facilmente anche i diversi strumenti da mettere in portafoglio e da mettere in watch list ok mi riprendo un secondo lo schermo intanto Nicola dice brava ottima idea allora dal momento che più di qualcuno sta chiedendo per il chat lab sì è un servizio in abbonamento però per voi che state seguendo il webinar è possibile fare mandando una mail a servizioclienti chat lab.it potrete fare una prova di un mese gratuita quindi fin tanto che Francesca metta il foglio Excel all'interno del sito vi faccio vedere richiedendo già da stasera le password quindi potrete entrare e fare quello che sto facendo io scrivete qui airbag andate ovviamente a selezionare l'emittente che è Fontobel ci interessa naturalmente Fontobel e quindi andiamo a fare la ricerca e otteniamo i 10 certificati che in questo momento hanno l'opzione airbag quindi nel frattempo se volete potete anche ragionare così ci chiedevano poi un'altra cosa Francesca se ci sono certificati su generali e quindi ho fatto magari un'altra ricerca stavo mentre parlavi per far vedere che ne avete ne avete cinque in questo momento quindi facciamo così Fontobel generali ah in realtà no perché ne avete anche prodotti a leva quindi eliminiamo quelli a leva eccoli qui sono cinque certificati due hanno già rotto la barriera erano di tipo bonus quindi oggi diciamo hanno perso un po' del loro appeal esatto tra l'altro per la corretta politica di metterli in bidon di una volta che il certificato rompe la barriera non è neanche acquistabile quindi alla fine non si rischia di incappare in un prodotto che non gira poi ci sono invece tre certificati qui via di la barriera uno a tredici euro però generali è componente di un basket quindi non è detto che poi sia il titolo che comanderà che ricordiamo che in un basket comanda sempre il peggiore però ecco stavo guardando mentre parlava Francesca prima guardavo questo ad esempio che ha tre titoli quindi unicredit intesa e generali non è detto che chiaramente sia generali a comandare anzi in questo caso è unicredit però non mi dispiace anche perché vedo che ha una buona barriera 6,06 su unicredit 1,12 su intesa 8,82 su generali la scadenza è sufficientemente lunga perché abbiamo febbraio 2023 i premi sono del 6,55 annuo che vengono pagati sulle barriere tra l'altro con effetto memoria quindi se i rettitori rimangono sopra queste barriere che abbiamo visto praticamente abbiamo un 19 e per cento abbondante 19,5 che si va a sommare a 100 del nominale quindi se andiamo a considerare l'acquisto intorno ai 68 abbiamo quasi un 90% circa da guadagnare se i titoli rimangono sopra queste barriere quindi ecco sono andato un po' un po' a spasso per far vedere così allora ti ripasso il monitor e questa volta probabilmente te lo lascio per un po' più di tempo a meno che di vedere qualche analisi nel chat lab ci facciamo prima un giro veloce ah questi questi mi piacciono tantissimo quindi ora parliamo di questo allora proprio dal diciamo la discussione che abbiamo avuto con i diversi trader professionisti c'è forte incertezza sugli indici e questo infatti è anche il focus delle nuove missioni l'incertezza sugli indici significa non sappiamo se l'indice cresce o avrà un crollo diciamo come si è verificato poi a marzo in questo caso abbiamo un cash collect sul Futsimib pensato a quattro mani con Gabriele e Belelli con barriera al 50% che devo dire è una barriera comunque anche se non più al 50% protettiva perché ha 9101,25 punti è una barriera premio e capitale a scadenza e rimborso anticipato da 18202,50 punti premio annuale di 3,94 euro ovviamente come prima il discorso è 3,94 euro parametrati però su un prodotto che attualmente scambia sotto la pari che dovrebbe scambiare circa sui 90 euro quindi è un prodotto che ci dà un rendimento aggiuntivo sia come premio ma anche ovviamente come rendimento sul capitale la prossima data di valutazione è l'11 marzo 2021 perché sono in questo caso premi annuali e non semestrali 93 l'ultimo prezzo lettera quindi 3,94 della cedola aggiungiamoci circa 7 punti in conto capitale un altro punto e mezzo ma soprattutto la barriera è 9.000 101 una barriera al di sotto dei minimi storici ma di gran lunga al di sotto dei minimi storici quindi devo dire che questo dal primo giorno che l'ho visto mi è piaciuto molto come certificato naturalmente nell'ottica della costruzione del portafoglio tant'è vero che se non sbaglio c'è una domanda che è arrivata proprio 3-4 minuti dopo che abbiamo iniziato che parlava proprio forse di questo dopo la vado a riprendere facciamo un giro di domande Francesca perché ne ho troppe certo allora parto dalla fine quindi cerchiamo di risalire perché così almeno siamo più contestualizzati su quello che stavamo vedendo allora Giovanni mi chiede un Isin che era quello di Wildcard che cosa ne penso dopo magari a fine webinar lo ripetiamo ve ne avevamo detto più o meno prima poi tutte le barriere con il 50% sono da considerare airbag o possono anche non essere tutti airbag dipende dallo strike quindi se lo strike è inferiore al 100% allora a quel punto abbiamo il cosiddetto effetto airbag in questo caso lo strike ad esempio è pari al 100% quindi essendo pari al 100% non ha effetto airbag quindi bisogna andare a vedere all'interno dei final terms o dei kid se lo strike è pari al 100% o è inferiore se è inferiore diciamo è molto facile sui prodotti con effetto airbag perché in genere diciamo in genere ma in realtà su tutti i prodotti attualmente emessi la barriera a scadenza e lo strike coincidono sui prodotti con effetto airbag quindi se ha un effetto airbag al 50% questa sarà anche la mia barriera a scadenza ok poi io vado avanti quindi un po' alcune rispondo io brevemente altre naturalmente telegiro allora Mario chiede si può quindi switchare da un airbag a un express normale in caso di forte calo del sottostante allora cioè l'idea potrebbe essere il mercato scende molto l'airbag tiene un po' di più perché abbiamo detto che ha questa opzione che ci permette di tenere un po' meglio i prezzi l'express scende nel momento in cui però scende e ho un'aspettativa di rimbalzo naturalmente quello che correrà da più sarà l'express ci siamo? sì l'aggiornamento mi sembra che fili sì Mario allora sì potresti naturalmente la teoria è corretta poi bisogna sempre verificare i prezzi però sì ci sta questa mi piace ho notato che Fontobel spesso emette cash collect con flusso cedolare annuale semestrale o al massimo trimestrale non mi è parso di notare flussi cedolari con scadenza mensile la domanda è nel caso in cui il flusso cedolare fosse mensile avrebbe un rendimento minore rispetto ad uno stesso con frequenze diverse? allora è una bellissima domanda perché dipende dal sottostante quindi dipende da come si mettono i diversi parametri quindi la barriera premio e la barriera autocall in questo caso quindi se abbiamo un autocall tra virgolette facile è più diciamo potremmo avere magari un premio mensile più alto proprio perché è molto più semplice ottenere l'autocall quindi non abbiamo quel flusso cedolare diciamo a lungo termine che dovrà pagare il certificato cioè faccio un esempio se abbiamo un premio annuale magari del 10% ovviamente è una scadenza a 5 anni e la barriera autocall è molto alta in quel caso quel certificato mi andrà a pagare un 10% per 5 anni e praticamente un 50% sul capitale che ho investito quindi ovviamente avrà se vogliamo una valenza diversa rispetto magari a un premio mensile di un euro o un 1% che ha un autocall molto più facile che quindi magari tra un mese mi è già scaduto in genere diciamo in questo periodo di mercato quindi abbiamo iniziato a emettere la nostra gamma di cash collect diciamo a fine novembre quindi inizio dicembre dello scorso anno inizialmente abbiamo iniziato con dei prodotti con cedola mensile ma in questo momento in cui siamo tra virgolette in una fase di incertezza abbiamo preferito dare un po' più spazio anche al sottostante per rimanere tra virgolette sopra la barriera anche perché il rendimento ovviamente sui sei mesi in questo momento quindi se andiamo a prezzare uno stesso identico prodotto con un rendimento a sei mesi o a un anno è tra virgolette ottimizzato rispetto a un rendimento magari su un mese anche cambiando magari i diversi parametri perché ovviamente nel momento in cui andiamo a apprezzare diversi prodotti li andiamo a studiare infatti questa è una cosa un po' che ci caratterizza non abbiamo mai delle grosse emissioni con le stesse barriere abbiamo tanti piccoli prodotti che partono nelle diverse settimane con tante caratteristiche diverse e da qui anche l'idea di avere questo file Excel un po' riassuntivo in questo caso diciamo negli ultimi mesi quello che abbiamo notato è che il rendimento un po' più interessante con le barriere un po' più protettive lo abbiamo sui sei mesi o un anno è per questo che non troviamo tantissimi prodotti al momento con diciamo frequenza premio mensile o trimestrale ok allora devo dire dalle domande si capisce ormai come anche chi segue questo mondo dei certificati si è entrato proprio quasi nella strutturazione dei prodotti allora qual è la logica di fare un autocall con gli strike alti per non farli raggiungere ma non si potrebbe direttamente mettere l'autocall dopo 9 o 12 mesi chiede Emanuele allora sì è possibile però ovviamente diciamo bloccare l'autocall costa di più di mettere un autocall più alta è come dire metto un cap alto piuttosto che non metto il cap quindi dici se non lo mettessi per 9 mesi mi costerebbe di più che metterla però con basse probabilità di raggiungere quindi in termini di strutturazione conviene comunque metterla va bene poi altre 2-3 poi dopo voglio vedere le novità a quanto ammonta la volatilità implicita di Wirecard te lo dico subito 77% contro una volatilità storica un anno del 61 questo per Alessandro poi 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 allora i certificati sotto la barriera questo va bene oh questa Anna Maria mi piacerebbe più che altro più che avere te nel webinar avere il tuo referente bancario perché dice il mio referente bancario continua a dirmi che i certificati sono scommessi e che se va bene è fattore C io non sono per niente d'accordo ma se puoi dire qualcosa ma Anna Maria più di quello che diciamo per due ore ogni volta che ci incontriamo no francamente naturalmente mi dispiace che ci sia ancora questa diciamo questa questa diffidenza questa diciamo questo scetticismo dietro un prodotto che in realtà ha dimostrato nel corso di questi dieci anni di aver sdoganato tutti quei pregiudizi e quei quei falsi miti di prodotto che è una scommessa se va bene sei fortunato altrimenti insomma sono veramente ormai chiacchiere che purtroppo vengono ancora riferite da chi non ha voglia né tempo né interesse di approfondire la materia quindi la battuta di avere il tuo referente bancario ai webinar in realtà più che una battuta mi piacerebbe veramente che ci fosse perché probabilmente capirebbe che dietro alla costruzione un certificato c'è un'ingegneria finanziaria poi che la banca emittente ci guadagni credo che non l'ho mai nascosto dal primo giorno in cui ho iniziato a parlare di certificati ma è anche normale che sia così non credo che il bancario faccia prodotti dove non ha budget o dove non ha interesse quindi Anna Maria mi dispiace non riesco ad aiutarti più di quello che già facciamo normalmente che dirti se è possibile spiega al tuo referente bancario che esistono dei modi per informarsi e poi soprattutto l'importante è che lo sai tu ecco poi se non lo sa lui poco poco importa e Francesca c'è tutto un tema sui mini short sui turbo short reverse step down quindi se riusciamo dopo ce la facciamo a fare un giro sui reverse anche per capire se si possono utilizzare altre cose del genere certo certo diciamo abbiamo emesso proprio ultimamente stiamo emettendo anche giornalmente tantissimi nuovi turbo certificates anche con leve molto basse quindi possono essere utili anche ovviamente a fini di copertura oltre che di speculazione quindi assolutamente possiamo trattare il tema lo trattiamo anche perché tanto come sapete dura un'ora ma poi alla fine insomma anche negli ultimi appuntamenti ci siamo sempre allungati di qualche minuto quindi cercheremo di trattare tutto poi che opinione avete dei certificati emessi da banca generali Luca allora banca generali è un collocatore è un distributore quindi non posso avere un'opinione perché non colloca il certificato di un emittente quindi non so dirti naturalmente immagino siano dei bei prodotti ma non veramente non riesco ad aiutarti poi ci sono i siti questo va bene sull'inverso dopo naturalmente dobbiamo tornare Luca quanta percentuale di certificati rispetto al totale ci può essere in un portafoglio per motivi legati alla Mifid allora qui dipende naturalmente dalle reti dipende dai paletti imposti dalle reti però tieni presente trattandosi di strumenti complessi trattandosi di prodotti comunque derivati considera che mediamente si arriva a un 30% in consulenza cioè vuol dire se sei seguito da un consulente tecnicamente si arriva a un 30% del portafoglio se poi fai da solo quindi ti fai la Mifid da solo non hai un consulente sopra di te puoi fare anche il 100% del portafoglio non ti dice niente nessuno basta che ti assumi tu le responsabilità però tecnicamente è un 30% quello che stavamo vedendo proprio adesso ci avevano chiesto se era utilizzabile come costruzione di portafoglio e naturalmente mi sento di dire di sì cioè in un ambito di costruzione di un asset allocation un prodotto su un indice con una barriera così bassa fa non dico capitale protetto ma è parente insomma rompere i 9000 punti è veramente veramente peccato allora Claudio ci chiede invece sul petrolio quindi dai dobbiamo fare petrolio reverse e i nuovi prodotti naturalmente ci servirebbero tre giorni allora lo so intanto intanto per Anna Maria per Anna Maria sono arrivate tipo 5 o 6 cose intanto il consulente non parla di quello perché evidentemente non li collona non li colloca non ha interesse insomma va bene vogliamo parlare magari prima il tracker certificate o il strategy almeno diamo un overview perfetto abbiamo lanciato questo prodotto ma penso che ormai diciamo con tutti gli articoli che sono stati pubblicati sul petrolio ormai tutti sappiano che cos'è il contango lo ripetiamo giusto per diciamo informarci di nuovo il contango è quella si ha quando la curva dei prezzi future sul petrolio è crescente quindi partiamo da se vogliamo quando abbiamo il prezzo del future con scadenza successiva quindi con scadenza più lontana costa di più del prezzo del future con scadenza più vicina è una situazione in cui se ho comprato un future quindi se investo in future e devo fare il rollover ho ovviamente una perdita perché vado a comprare un prodotto che ha le stesse identiche caratteristiche di quello che avevo in portafoglio ma lo pago di più quindi ho una perdita da rollover nel caso invece della backwardation abbiamo la situazione opposta quindi il future con scadenza più lontana costa di meno del future con scadenza più vicina ovviamente il future man mano che si avvicina diciamo alla sua scadenza va a coincidere diciamo con il cosiddetto prezzo spot e nel caso ovviamente della backwardation abbiamo un guadagno se siamo investitori di future perché? perché ovviamente andiamo a investire sulla stessa identica sullo stesso identico asset con una scadenza ovviamente più lontana ma con le stesse caratteristiche e investiamo tra virgolette ad un prezzo più basso e quindi abbiamo nel caso di rollover abbiamo un guadagno da rollover quindi che cosa abbiamo pensato l'anno scorso quello di creare un prodotto che nel caso in cui siamo in fase di contango andiamo a ridurre le perdite da rollover e non investiamo nel future ma investiamo in 10 azioni quindi un basket di 10 azioni e non nel future nel caso di backwardation invece ovviamente abbiamo un guadagno da rollover e andiamo a investire direttamente nel future in particolare se andiamo a vedere ogni mese noi andiamo a studiare la curva dei future sul VTI quindi diciamo non sul brand ma sul VTI andiamo a vedere se la curva dei future è in contango se è in contango investo in questo basket di 10 azioni un basket dinamico 10 azioni che sono basate negli Stati Uniti o in Canada e che operano su tutta la pipeline di produzione del petrolio produzione diciamo esplorazione distribuzione raffinazione e marketing quindi fino alla fase finale e ogni sei mesi questo basket viene ribilanciato quindi ogni sei mesi abbiamo un ribilanciamento anche sul basket azionario nel caso in cui fossimo in backwardation invece andiamo a investire direttamente nel VTI con la terza scadenza successiva a quella disponibile quindi è un prodotto che praticamente ogni mese ci può far passare dalle azioni ai future è stato investito nei future quindi lo scorso anno per esempio per un lungo periodo era investito direttamente nel VTI in questo periodo ovviamente aveva individuato correttamente la fase di contango e quindi era investito in azioni quindi quando diciamo nella notte abbiamo scoperto che era possibile che il future sul petrolio diventasse negativo il certificato quotava diciamo la chiusura del giorno precedente circa 49 euro adesso dovrebbe essere circa sui 60 euro quindi comunque è un prodotto che nonostante il crollo del petrolio ha performato ha sovra performato e ha performato positivamente anche grazie proprio a questa struttura smart che ci fa passare dalle azioni ai future sulla base dell'inclinazione della curva dei future sul petrolio poi possiamo rivedere il codice Aikin Francesca si lo rivediamo subito è il DE Domodossola Empoli 3x0 Verona Firenze 2 K quadro Domodossola 2 allora ci sono dunque intanto ce n'era una che era arrivata che era arrivata prima dopodiché volevo far vedere un grafico comparativo allora vediamo un po' il il costo implicito allora puoi chiedere il costo implicito percentuale annuo che incide sul nav è l'1,20% ed è una management fee quindi è una fee di gestione che viene scalata diciamo ogni giorno diciamo nel continuo se vogliamo dal dall'indice in realtà e quindi poi automaticamente dal tracker certificate che va a replicare 1 a 1 l'indice è un 1,20% annuo quindi se lo teniamo diciamo per esempio per tre mesi paghiamo solo la parte dell'anno per il quale l'abbiamo tenuto quando cambia la strategia i titoli vengono venduti anche in perdita? allora se cambia la strategia e c'è stata una perdita assolutamente quindi nel caso in cui partiamo diciamo da un livello di l'indice di 100 abbiamo investito in questi 10 titoli e poi abbiamo una perdita e ad esempio siamo a 90 euro quei 90 euro sono i 90 euro che poi vengono investiti direttamente nel future quindi sì ovviamente non possiamo tra virgolette cancellare le perdite ok guarda intanto stavo preparando un grafico comparativo che mi piace molto e allora Armando si è appena collegato chiede se è disponibile la registrazione sì è in fase di registrazione quindi già domani mattina la troverai sul canale telegram e sulla nostra sezione il certificato ha un cap? cap? no come tutti i tracker certificate ovviamente non ci sono cap non ci sono barriere quindi non abbiamo barriere di protezione ma non abbiamo neanche cap quindi diciamo possiamo avere anche performance molto rilevanti abbiamo dei certificati come ad esempio quello sulla blockchain sulla cyber security che attualmente hanno diciamo performance anche molto elevate a doppia cifra e ha una leva? non ha una leva ovviamente essendo un tracker è sempre uno uno perfetto allora questo è Claudio era proprio all'inizio del collegamento avrei una domanda sul tracker di fondo riguardo al petrolio il certificato può andare a zero o sotto zero con perdita definitiva? ci siamo scontati non può andare sotto lo zero ma questo qualsiasi certificato quotato sul CEDEX non può andare sotto lo zero quindi abbiamo un floor minimo di prezzo che è 0,3 volte 0,1 è il minimo prezzo che può avere un certificato quotato sul CEDEX ok allora volevo far vedere quello che stavi dicendo prima a proposito del cambio di strategia e che ha aiutato vediamo come praticamente questo da dicembre 2019 ma potremmo mandarlo anche un po' più indietro a confronto c'è il certificato in linea bianca e in verde il contratto generico sul future quindi praticamente quello che lavora sempre sulla scadenza successiva e che vuol dire che non ha preso in questo caso ad esempio la fotografia del prezzo negativo del contratto di maggio perché si era praticamente già fatto il passaggio su quello successivo comunque in linea di massima vedete come le due linee tra il contratto future sul petrolio e il certificato fino a gennaio febbraio fossero appaiate poi a un certo punto invece vedendo la situazione di forte contango il certificato sia quando è che ha fatto il cambio di strategia precisamente lo sai se non erro la fa a fine mese di ogni mese quindi diciamo l'ultimo giorno di negoziazione di ogni mese l'ultimo giorno di negoziazione di ogni mese e applicare esatto perché vedo che qui c'è stato lo scollamento fino a qui erano andate insieme qui vedo c'è stato uno scollamento poi si sono riavvicinati ma perché era il periodo in cui crollava tutto e quindi anche se la strategia era sui titoli azionari non si è salvata no? perché comunque non seguiva il petrolio ma scendeva tutto poi vediamo come effettivamente ad oggi il petrolio sia qui giù con questo rimbalzo chiaramente importante fatto negli ultimi cinque giorni e il certificato invece è comunque qui quindi vuol dire che rispetto ad esempio ad ottobre abbiamo il certificato che ha perso il 32% stiamo parlando sempre chiaramente di una situazione in perdita ma data dal fatto che nel mezzo c'è stata la crisi insomma del coronavirus che ha buttato giù tutto anche i titoli azionari e invece in verde abbiamo il petrolio attualmente il contango tra l'altro si è molto ristretto questo non so se l'avevate insomma penso avrete letto è ancora presente sui vari contratti quindi comunque immagino che continuerà ad essere investito ancora sul sul paniere di titoli però rispetto a quello che era 15 giorni fa dove c'erano addirittura 10 dollari di differenza tra giugno e luglio vedete in questo momento tra giugno e luglio lo spazio si è ridotto a un dollaro e 60 e rispetto ad esempio ad ottobre e adesso è poco più di 5 dollari quindi la curva è chiaramente ancora in contango però vediamo come sia decisamente diversa rispetto a prima comunque bello devo dire che tu hai detto di 49 io l'ho visto a 47 personalmente quando ne abbiamo parlato sul canale telegram avevamo fatto un passaggio su questo certificato ed era a 47 quindi bella soluzione bella idea naturalmente è una strategia che permette di investire in maniera diversa sul petrolio ti ho ripassato il monitor così vediamo le nuove emissioni perfetto abbiamo come anticipavo diciamo abbiamo sentito diversi trader su quali possono essere i settori che tra virgolette si riprenderanno più facilmente o che possono rappresentare anche un'occasione di investimento in particolare con Tony Cioli Puviani abbiamo individuato se vogliamo una materia prima cioè l'oro e piuttosto che costruire il certificato sulla materia prima che comunque sarebbe una costruzione non solo molto complessa ma anche molto costosa poi per l'investitore finale lo costruiamo su titoli azionari quindi in particolare abbiamo creato un prodotto sul Memory Cash Collect su Barrick Gold che è la più grande società al mondo di estrazione di oro che è molto ovviamente correlata al prezzo dell'oro che in questo caso ha una barriera del 60% 16,27 dollari tre date di valutazione e scadenza nel 2024 il premio è di topologia annuale quindi frequenza premio annuale di 7,60 euro un altro certificato che può essere se vogliamo il complementare del primo è un Memory Cash Collect su tre titoli molto correlati tra loro quindi tre società che si occupano sempre dell'estrazione dell'oro come Barrick Gold Kinross Gold e Newmont quindi sono tre società molto capitalizzate ovviamente è un prodotto che ha cinque date di valutazione con scadenza a maggio 2023 e premio invece che annuale quindi rispetto al precedente che aveva un premio annuale di 7,60 euro ha un premio semestrale di 5,75 cioè un 11,5% annuale e inoltre rispetto al precedente che aveva una barriera al 60% presenta una barriera al 50% quindi un po' più protettiva quindi può essere un'alternativa di investimento anche rispetto al primo inoltre oltre diciamo al tema oro che abbiamo individuato anche che poi c'è anche un articolo che abbiamo proprio presentato nella nostra weekly note scritto da Toni Scioli Puviani proprio sul tema oro quindi perché investire nell'oro a suo parere abbiamo individuato anche come dicevamo degli strumenti sugli indici proprio perché c'è forte incertezza sugli indici quindi possono rappresentare anche degli strumenti interessanti in ottica diciamo di ricevere dei premi periodici ma soprattutto di avere una protezione del capitale in questo caso abbiamo l'S&P 500 quindi un cash collect sull'S&P 500 che ha una barriera sotto i 2.300 punti a 2.240 virgola 34 punti che paga un premio semestrale di 4,22 euro cioè un 8,44% annuale ed è partito in negoziazione oggi quindi per tutti gli iscritti alla newsletter delle nuove emissioni avete ricevuto già questa mattina la newsletter con la nuova emissione questo è il grafico a 5 anni dell'S&P 500 quindi abbiamo mantenuto ampia anche la finestra e vediamo come la barriera diciamo risulta tra virgolette messa chirurgicamente sui minimi di quest'anno proprio centrata senti allora domande su quello dell'oro ci chiedono le società che cosa fanno estrazione o ricerca o vendita estrazione di oro quindi sono molto comparabili se vogliamo a Barry Gold sia King Rose Gold che Newmont Newmont è diciamo la società di estrazione americana più più grande diciamo per l'estrazione dell'oro Barry Gold della più grande diciamo al mondo ok ora per chi chiede i reverse faremo l'ultimo passaggio proprio sui reverse quindi tranquilli cerchiamo di fare tutto e allora poi questo me lo guardo io senti allora ci dice Michele che dal foglio informativo del tracker Royal Strategies risulta un cap ma io francamente mentre tu parlavi ho cercato ma io non lo vedo ma tu sai dell'esistenza di un cap non mi sembra no non c'è non c'è un cap quindi non so se c'è diciamo non so qual è il foglio informativo tra virgolette quindi Michele guarda se mi puoi dettagliare dove l'hai visto così magari nel frattempo lo cerco e cerchiamo di capire a cosa fa riferimento detto questo io ho guardato ma soprattutto essendo un tracker certificate che è un benchmark di natura non ha un cap quindi non dovrebbero esserci esatto ok queste le nuove missioni ci chiede Maurizio e poi passiamo ai reverse ci sono certificati su biotecnologie e farmaceutici perché non ne sento mai parlare in realtà sì c'era un basket sul biotech che è quello costruito poi su Gilead che è la società diciamo più quotata anche per il vaccino sul covid quindi in realtà sì c'era un basket non so quanto è sopra la pari al momento magari lo possiamo vedere anche su Cedlab per Paolo sì sì assolutamente sì allora facciamo prima questo e poi perché stavo cercando un basket sul biotech proprio perché era uno dei temi di investimento dell'anno emesso prima del set off dei mercati con effetto airbag era un'Athena con effetto airbag che è ancora ancora in vita diciamo quindi dovrebbe essere eccolo qua sì allora lo vediamo prendo io il controllo così diamo un'occhiata rapida anche a questo e poi come promesso parliamo un po' di reverse allora nel caso specifico il certificato è questo che vedete quindi un'Athena airbag il prezzo è sopra la pari due anni di durata scadenza gennaio 2022 il basket appunto la Gilead che sapete appunto della società più attiva in questo momento sulla ricerca del vaccino e Biogen è anche questa in salita 11 e 71 prima data utile 27 luglio 2020 rimborso con un 10 e 48 di coupon quindi se io lo compro oggi a 103 comunque c'è ancora un 7 e mezzo di rendimento potenziale da portare a casa per il 27 luglio se non dovesse rimborsare andrebbe avanti fino a gennaio 2021 con il coupon sempre a memoria barriere in questo caso al 75% ed effetto airbag e questo è il grafico che prende forma vedete che a fronte di un meno 30 si perde solamente il 3% quindi buona segnalazione forse anche molti non sapevano neanche che ci fosse qualcosa su questi due titoli e quindi grazie a Maurizio che ci ha dato l'opportunità di vedere questo certificato il codice ISIN è quello che vedete qui quindi DE30 WE6AJQ2 questo è per allora Michele dice che se allora innanzitutto per avere la newsletter di Fontobel cosa devono fare? si possono iscrivere direttamente sul sito quindi vanno nel nostro sito certificati.fontobel.com e facciamo vedere magari anche direttamente andiamo nella sezione servizi newsletter iscriviti alla newsletter e si può scegliere anche a quale newsletter iscriversi quindi l'idea di investimento la weekly note le nuove missioni investi.b che è il nostro programma giornaliero oppure il focus del consulente che è dedicato ai tracker certificates quindi abbiamo diciamo diverse newsletter e ognuno si può comporre il proprio portafoglio di newsletter preferito magari facciamo molto velocemente sui nuovi prodotti secondo me ci possono essere due prodotti molto interessanti anche tra i nuovi quindi oltre al prodotto SP500 e Nasdaq che è un basket al 65% con la barriera al 65% abbiamo anche un prodotto che invece parte in negoziazione da domani sull'Eurostox Banks e farei vedere il grafico perché secondo me il grafico è molto esplicativo in questo caso abbiamo una barriera 37,21 quindi una barriera molto profonda sull'Eurostox Banks scade nel 2023 la barriera è al 70% però come abbiamo visto dal grafico diciamo è un punto mai toccato anche negli ultimi cinque anni premio semestrale di 4,18 euro cioè 8,36% anno vado sempre molto velocemente un altro prodotto che va diciamo a fare strike sui minimi di due titoli cioè Commerce Bank e Sussetel General perché lo vediamo anche dai grafici hanno sia Commerce Bank che Sussetel General hanno due grafici molto simili in questo caso abbiamo un livello di barriera al 50% e un premio semestrale di 7,37 euro cioè 14,74 euro annui e questo sempre parte in negoziazione da domani inoltre ultimissimo basket di lusso quindi abbiamo diciamo visto come la ripresa anche della Cina potrebbe portare se vogliamo un ulteriore sviluppo nell'ambito del lusso quindi abbiamo Louis Vuitton Hermes e Burberry anche qui della tipologia quanto quindi non ci dobbiamo preoccupare in questo caso della sterlina la barriera premio capitale a scadenza è del 60% e abbiamo un premio di 5,06 euro semestrale cioè 10,12 annuale benissimo allora queste tutte le nuove emissioni da oggi e da domani praticamente in questi giorni già in quotazione quindi idee sugli indici idee su basket tematici lusso insomma una bella nuova eh Pierpaolo eh che ovviamente ogni volta che c'è una nuova emissione noi abbiamo un articolo dedicato quindi faccio un esempio sui prodotti di partire in negoziazione oggi c'era proprio l'articolo dedicato ai nuovi prodotti dove ci sono non solo tutte le caratteristiche dei prodotti ma anche tutti i grafici quindi anche per vedere graficamente dove sono posizionate le barriere può essere utile diciamo andare direttamente a leggere l'articolo e Francesca ci chiedono se possiamo spendere qualche parola in più sul funzionamento di quello su S&P 500 e Nasdaq assolutamente lo vediamo subito quindi questo è sempre un memory cash collect che ha barriera di rimborso anticipato al 100% barriera premio e capitale a scadenza al 65% il che significa per il Nasdaq 100 5.649 15 punti S&P 500 1.821 1.74 punti se entrambi gli indici sono superiori a questi due valori riceviamo il premio di 5.61 euro se invece entrambi fossero superiori ai valori di strike quindi per il Nasdaq 8.691 punti per l'S&P 500 2.802 2.68 punti riceviamo anche oltre al premio di 5.61 euro i 100 euro di valore nominale in questo caso il premio è annuale quindi la prossima data di valutazione è il 4 maggio del 2021 la data di scadenza è il 4 maggio 2023 quindi abbiamo tre date se vogliamo di valutazione due intermedie più la scadenza allora è un worst off per Francesco quindi vuol dire che devono essere tutti e due o comunque il peggiore quindi se uno dei due è sopra e l'altro no comanda quello che non sta sopra quindi è è un classico basket worst off come tutti i certificati che insomma abitualmente siamo abituati a vedere quindi è importante che siano tutti e due sopra il livello ok però ecco è per memoria quindi ovviamente se in una delle date di valutazione uno dei sottostanti fosse sotto la barriera in quel caso se alla successiva data di valutazione dovesse recuperare ed essere superiore alla barriera allora a quel punto riceveremo due premi o tutti i premi che abbiamo conservato in memoria ok allora ci facciamo un giro sui reverse come avevamo promesso poi così diciamo come tipologia reverse nell'ambito dei certificati di investimento non abbiamo prodotti ma li abbiamo diciamo sull'ambito dei certificati a leva vorrei magari far vedere uno strumento che può essere utile agli investitori che non tutti conoscono quindi sono andata nel menu prodotti e ho cercato ricerca turbo certificate e ottengo la cosiddetta mappa knockout quindi se volessi andare a investire faccio un esempio sul Futsimib abbiamo una diciamo anche da un punto di vista visivo è molto facile vedere tutti i prodotti della tipologia short quindi tutti i prodotti su cui turbo su cui posso andare short e tutti i prodotti su cui posso andare long nel momento in cui diciamo vediamo le scadenze per esempio giugno e settembre e possiamo scegliere sulla base del prezzo attuale del Futsimib quale prodotto può essere più adatto alle nostre esigenze ovviamente più siamo vicini al livello attuale più è facile che diciamo il Futsimib vada a toccare la barriera più siamo lontani dal livello attuale più bassa anche sarà la leva perché è più difficile toccare il livello di barriera knockout come abbiamo visto quando passiamo il mouse sopra al grafico otteniamo tutte le caratteristiche del prodotto per esempio il turbo short su Futsimib con strike 26.750 punti possiamo cliccare direttamente sul codice e andiamo nella pagina del prodotto quindi questo può essere anche uno strumento per ricercare il turbo certificate di proprio interesse abbiamo moltissimi prodotti della tipologia turbo certificate come vediamo 286 prodotti anche con leve molto basse come fare per trovare il prodotto anche sulla base della leva possiamo selezionare un sottostante oppure no e possiamo selezionare direttamente il livello di leva quindi diciamo attualmente siamo a mercati chiusi quindi non non aggiorna tutti i livelli di leva ma vi faccio vedere per esempio eccoli qua perché questi sono i nuovi prodotti per questo non si vede ancora il livello di leva ma abbiamo leve appunto che vanno dallo 0.69 fino al 55.60 perché come ricordiamo sempre la leva del turbo è variabile nel momento in cui acquistiamo sulla base della distanza dal livello di knockout andiamo a fissare il livello di leva ecco ricordiamo che innanzitutto intanto hai fatto bene a parlare di questo aspetto della leva variabile ma soprattutto che è vero che tipicamente parliamo sempre di prodotti investimento e quindi la leva la teniamo sempre un po' da parte però partiamo dal presupposto dell'utilizzo della leva in questo caso è sempre con una prerogativa ovvero che non è mai possibile perdere più del capitale investito quindi non c'è il rischio di margin call di dover aprire conti derivati versare margini c'è uno stop loss quel livello di knockout che vedete raggiunto il quale lo strumento si azzera e quindi viene revocato quindi non comporta il rischio di perdita superiore al capitale investito naturalmente può essere un'idea per fare coperture di portafoglio allora Francesca ti leggo un po' di domande sul tema così andiamo verso diciamo verso la chiusura innanzitutto allora scorro ecco questa anche se non ci sono degli inverse di investimento ma sono a leva ci chiede Gian chiede un certificato inverse rimborsa il capitale in caso di fallimento del sottostante allora diciamo dipende quindi come dice esatto quindi diciamo in generale direi che una tipologia di prodotto turbo o leva fissa probabilmente prima di arrivare al default del sottostante probabilmente avrà già toccato la barriera immagino quindi immagino ovviamente diciamo quasi non si pone virtualmente questa tipologia di domanda in ogni caso sarebbe un evento straordinario quindi andrebbe trattato come un evento straordinario quindi a quel punto immagino ci sia non è mai accaduto sui prodotti attualmente emessi ma immagino ci sia un coefficiente di borsa italiana a quel punto sì allora diciamo che infatti è quello che assolutamente quello che dici tu aggiungo io che nel caso ad esempio di un titolo che sta per andare in default la sua discesa chiaramente favorisce il rialzo di un prodotto reverse quindi a quel punto salendo verso il massimo chiaramente potrebbe non avere senso tenerlo se il default arrivasse come un fulmine a ciel sereno e certificato a quel punto non avendo più il sottostante non ci sarebbero le possibilità per fare coperture quindi temo che verrebbe trattato esattamente come qualsiasi altro certificato però non c'è stata una storia e quindi non so dirti però ecco direi che un fallimento che dalla sera alla mattina non credo che cambi molto se è un reverse o meno poi questa è una cosa che l'ho letta prima sono rimasto un attimo così non so se tu riesci i certificati step down sono da considerarsi operazioni short quindi vietati fino al 18 giugno step down tu come le intendi sono quelli infatti perché step down si intende una barriera discendente quindi non si intende un prodotto della tipologia short quindi no Claudio se ci riferiamo appunto al fatto che c'è questo schema di barriere discendenti che può essere la barriera per il rimborso anticipato insomma non è equiparabile a uno short quindi ci sono reverse o mini short quindi in questo caso abbiamo messo i turbo su titoli e azioni e se ci sono si possono usare dato il divieto di short ad oggi vigente ecco questa era una domanda che mi interessava è un'ottima domanda in realtà diciamo dipende sempre dal la responsabilità nell'uso di questi strumenti che è consentita solo a fine di copertura rimane poi al cliente quindi la maggior parte dei broker danno la responsabilità poi di dimostrare tra virgolette nel caso in cui ci fosse un controllo proprio sul contro titoli del cliente che questa operazione viene fatta a fini di copertura quindi a fini speculativi non è possibile attualmente quindi per il momento attuale investire su prodotti short ma solo a fini di copertura quindi solo se abbiamo una posizione da coprire sì esatto che poi allora come giustamente dici tu Francesca il broker ti mette a disposizione lo strumento dopodiché per evitare guai e fastidi anche semplicemente di dover dimostrare è bene utilizzarli se si hanno delle posizioni lunghe nel portafoglio quindi se non si assume una posizione netta corta lo strumento può essere utilizzato se non hai nulla nel portafoglio zero e vai direttamente solo short su Eni allora o sull'indice Fuzzimib in un'eventuale verifica potrebbe essere un problema insomma però ecco l'importante è cercare di non avere solo quello strumento lì ci chiedevano cosa ne pensiamo sul certificato sulle avioline adesso vado avanti con le domande Alberto perdonami eventualmente ti daremo risposta via mail Giorgio però invece fa una cosa te la volevo già chiedere io pensa quindi sbaglio nella vostra pagina del singolo certificato non compare il premio o la cedola cioè ho visto che corretto in realtà è vero tuttavia abbiamo diciamo tutta la documentazione al supporto quindi inclusa la brochure è vero ed è giusto è una cosa su cui stiamo lavorando assolutamente è uno dei diciamo dei campi su cui assolutamente possiamo migliorare ok poi ad oggi quanti certificati di Fontobel hanno rotto la barriera mi sono informato mentre parlava Francesca prima l'ho contato sul nostro database sono 46 Michele amante della statistica evidentemente poi per quanto riguarda il cap che dicevamo prima allora dice praticamente Michele che nel a scadenza si ottiene un risultato pari alla performance sottostante moltiplicata per il multiplo che è pari a circa 07 però quello non è quindi il cap il multiplo è riferito al valore dell'indice esatto il multiplo è diciamo quel valore che noi utilizziamo per far sì che il certificato parta a 100 euro quindi diciamo non è neanche un elemento rilevante è più un elemento per l'emittente di calcolo ovviamente quindi non c'è cap quindi siamo siamo d'accordo che anche sulla formula siamo sicuri bellissimo non ci sia cap poi qui c'è una domanda di Giovanni che io allora su questo altro che due minuti qua bisognerebbe starci 20 minuti per evitare che si facciano queste operazioni un po' così avventate a proposito di petrolio ho comprato circa una settimana fa questo certificato che sono andato a guardare un leva fissa 5 long sul Brent ma noto che è sostanzialmente fermo non ha preso per nulla l'ultimo rialzo del Brent è uno spread assurdo com'è possibile una cosa del genere allora brevemente rispondo io Francesca poi se vuoi aggiungere sono andato a guardare praticamente il certificato in questione un leva 5 long sul Brent che attualmente ha un prezzo di 0,0003 cioè ci sono tre zeri dopo la virgola prima del 3 ora un certificato come questo essendo un leva 5 long ha preso il contro il meno 30% del Brent quando è stato fatto praticamente qualche settimana fa quindi se io sono a leva 5 e il sottostante perde il 30 5 per 30 fa 150 lo strumento si va ad azzerare solo che tecnicamente non può quotare proprio 0 quota quindi 0,00003 pertanto diventa un prodotto purtroppo non più efficiente nel senso che se anche il sottostante dopo sale del 20-30% prima che lo sposti ce ne vuole non è un caso infatti che si procede poi a un raggruppamento cioè hai 100.000 certificati che valgono 0,00003 te ne lasciano 1.000 che valgono 0,3 così che quantomeno siano un po' più reattivi e un po' più efficienti e Francesca ce lo sta facendo vedere qui in questa pagina uno diciamo dei temi sui certificati a leva fissa quello di andare a selezionare sempre il certificato a leva fissa con prezzo più alto sia con prezzo che almeno sia diciamo che abbia almeno le quattro cifre decimali su cui muoversi perché se andiamo a investire su un prodotto che ha uno 0,3 volte 0,1 al di là che in genere ha sempre uno spread che tra virgolette va a sconsigliare l'acquisto proprio perché è uno spread talmente ampio che fa sì che l'investitore vedendolo diciamo non investa ma oltre a questo e la maggior parte sono già in modalità bidonli quindi in questo caso diciamo sono prodotti che già non sono più negoziabili oltre a questo quando abbiamo un prodotto di questo tipo la difficoltà è quella della risalita quindi se anche avessimo il prodotto giusto tra virgolette quindi la direzione giusta sul sottostante giusto con la leva giusta tuttavia il problema del livello di prezzo ci va a creare delle discrepanze proprio perché per passare da uno 0,3 volte 0,1 a uno 0,3 volte 0,2 il sottostante nella singola giornale di negoziazione mi deve realizzare una performance alta tale da muovere il certificato quindi questo è un problema dei certificati a leva fissa che ovviamente è intrinseco tra virgolette nella struttura proprio del certificato a leva fissa e deve essere ovviamente noi eliminiamo i prodotti meno efficienti mettendoli proprio nella modalità di bidonli ma ovviamente deve essere anche l'investitore a selezionare sempre quello con prezzo più alto perché quello con prezzo più alto ovviamente è quello che ha più possibilità diciamo di essere efficiente perché ha più cifre decimali su cui muoversi e quindi anche la più piccola variazione del sottostante mi viene replicata con la leva sul certificato a leva fissa quindi Giovanni il fatto che tu lo abbia comprato una settimana fa evidentemente ti sei fatto un po' a trarre dal prezzo sotto i decimali e quindi hai voluto fare una scommessa però purtroppo non è colpa di nessuno è matematica e guarda allora la cosa dei prodotti a leva fissa chi mi conosce sa ne parlo da dieci anni da quando sono partiti insomma adesso non sono forse dieci un po' meno ho sempre detto la mia sono degli straordinari prodotti per intraday però attenzione a non sottovalutare i rischi impliciti nel compounding effect e nell'interesse composto tra questi c'è proprio il fatto che quando vanno verso lo zero dopo non è che uno si deve far attrarre dei prezzi così bassi e poi soprattutto c'è anche un altro fattore che non è che è lo spread è largo per volere l'emittente in questo caso come ha detto Francesca è per scoraggiare ma è proprio borsa che non ti fa fare da 0,0003 a 0,00031 cioè passi direttamente a 4 però per andare da 0,03 a 0,04 come ci fa vedere Francesca devi fare in una stessa giornata almeno il 10% del sottostante quindi se si muove del 7 non lo vedi proprio muoversi quindi il fatto che tu l'abbia visto immobile è derivato da questo poi c'è ci sono un po' di considerazioni sulla quello che stavamo dicendo appreso dello short prima lo ribadiamo perché così altrimenti rischiamo di aver generato equivoci allora il divieto è di apertura di posizioni nette forte quindi non ho nulla nel portafoglio fu un pro oggi un mini short non va bene dopodiché la banca l'intermediario me lo mette a disposizione Fontobel lo quota sta a me decidere se aprirlo o meno se ho 100.000 euro di certificati su Eni sul Fuzzimib un cash collect quattro azioni telecom ho una serie di posizioni lunghe e compro un mini short sul Fuzzimib se compro un controvalore di esposizione di 20.000 e ho 100.000 lunghi non sto facendo nuove posizioni nette corte quindi in quel caso non sono passibile di multa questo grazie a Joe che ci sta specificando questa cosa quindi attenzione a non aprire posizioni corte se non si hanno posizioni lunghe e anche attenzione a un'altra cosa ho 10.000 euro di un cash collect su Apple e Gilead piuttosto che su l'S&P500 compro 10.000 turbo short sul Fuzzimib attenzione perché innanzitutto non sto facendo posizione compensata perché uno è Europa cioè uno in Italia e uno in America ma anche quando compro i turbo short attenzione perché se io ne compro 50.000 pezzi indipendentemente dalla leva sto replicando un contratto future un contratto future oggi ha una dimensione nozionale di 85.000 euro pertanto se anche io spendo 8.000 euro perché sono a leva 10 è come se avessi 85.000 di esposizione quindi attenzione a non avere posizioni nette corte non sul capitale che investite bensì sull'esposizione perché se utilizzate un prodotto a leva 10 il capitale quello che porta alla posizione netta corta è il nozionale non è i vostri 8.000 euro Giovanni dice aveva comprato a 0,0019 solo 100 euro e niente Giovanni che devo dirti se il petrolio va a 1000 dollari forse lo vedi muover a parte di scherzi ma non troppo l'ultima l'ultimissima proprio c'è un Aisin Stefania è arrivata così e last minute ci chiede se può rimborsare ad agosto un certificato lo puoi prendere tu direttamente sul settore all'Aisin allora D30 Seri VE Voreona Empoli Seri Ascoli J4 2 esattamente il basket su Biotech che abbiamo visto prima ah ok quindi l'abbiamo incuriosita ed era quello ok ce l'avevo pure davanti pensa si può rimborsare può rimborsare adesso ad agosto a fine luglio se non sbaglio se ne erro si lo controlliamo subito si avevamo fatto il ragionamento dal sito prossima dalla revalutazione che è il 27 luglio del 2020 e possiamo vedere sempre dal sito il sottostante il prezzo di chiusura lo strike quindi vediamo come il prezzo di chiusura in questo caso di Biogen è più alto rispetto allo strike lo stesso si dica poi anche per Gilead quindi è superiore quindi stando così diciamo ai sottostanti rimborserebbe in questo caso con la revalutazione del 27 luglio 2020 e quindi con i 5 giorni successivi la data di pagamento ok va bene allora io a molte domande ho risposto privatamente scrivendo quindi se insomma guardate il pannello sulla destra del vostro monitor magari trovate la risposta soprattutto a quelle più facili dove c'era un sì un no e quindi ho risposto brevemente lì per il resto ce l'abbiamo fatta non siamo riusciti a vedere tutti gli ISIN ma questa è una costante anche perché comunque riusciamo a dare risposta a tutti ma evidentemente non tutti gli ISIN che ci sono per Alberto è rimasta indietro ad esempio quello sulle airlines ma c'erano anche altri ISIN insomma eventualmente una mail o anche semplicemente se contattate Fontobel per maggiori maggiori chiarimenti no? questo assolutamente diciamo abbiamo come potete vedere anche dal sito i diversi contatti quindi qui anche per per trovarli certificati chiocciolo fontobel punto com la mail se volete chiamarci e ci chiamate dall'Italia c'è proprio il numero verde 80798693 c'è anche il numero verde internazionale nel caso in cui foste fuori dall'Italia ma immagino in tempi di coronavirus improbabile ci stavano sono rimasti perché non sono potuti più tornare esatto più che altro ecco va bene una cosa Pierpaolo ricordo ovviamente che abbiamo sia il canale Facebook che il canale YouTube dove poi pubblichiamo tutti i webinar sia di InvestiV che per esempio anche il webinar che abbiamo realizzato con YouFinance quindi può essere anche un'occasione per iscriversi al canale e si riceve la notifica proprio quando viene pubblicato qualsiasi nuovo video e ricordo poi che c'è venerdì alle ore 10 una puntata speciale dedicata al tema idrogeno che verrà pubblicata ovviamente sempre sul nostro canale YouTube di Fontobel Certificati una puntata speciale di InvestiV che ora ha la partecipazione straordinaria di Camilla Palladino che è l'executive vice president corporate strategy e investor relations di SNAM quindi potrà essere interessante anche sapere che cosa ne pensa proprio del tema idrogeno bella iniziativa molto interessante venerdì mattina sul canale YouTube di Fontobel appunto il progetto InvestiV bella bella iniziativa interessante sicuramente come tema di diversificazione ricordo insomma che Fontobel ha una serie di tracker certificate proprio su diversi temi oggi avevamo previsto anche di raccontare qualcosa sulla cyber security ma come vedete siamo arrivati quasi alle due ore e non siamo riusciti a farlo però speriamo di aver soddisfatto comunque le vostre curiosità vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione sempre molto attiva vi diamo appuntamento ai prossimi incontri ovviamente ricordiamo ancora venerdì mattina questo con la speciale idrogeno mentre da domani la registrazione di questo webinar sul nostro canale Telegram ciao Francesca alla prossima grazie mille Pierpaolo e buona serata a tutti buona serata anche da parte mia ciao a tutti